è un grandissimo piacere avere qui questa sera Maurizio Crosetti c'è una persona che fa collezioni di sabbia viaggia per il mondo e quando arriva a una spiaggia marina alle rive d'un fiume o d'un lago, a un deserto, a una landa raccoglie una manciata d'arena e se la porta con sé al ritorno l'attendono allineati in lunghi scaffali centinaia di flaconi di vetro entro i quali la fine sabbia grigia del Balaton, quella bianchissima del Golfo del Siam quella rossa che il corso del Gambia deposita giù per il Senegal dispiegano la loro non vasta gamma di colori sfumati rivelano un'oniformità di superficie lunare pur attraverso le differenze di granulosità e consistenza dal ghiaino bianco e nero del Caspio che sembra ancora inzuppato d'acqua salata ai minutissimi sassolini di Maratea, bianchi e neri anch'essi alla sottile farina bianca punteggiata di chiocciole viola di Turtle Bay vicino a Malindi nel Kenya in un'esposizione di collezioni strane che c'è stata di recente a Parigi collezione di campani da mucche, di giochi di tombola, di capsule di bottiglia di fischietti di terracotta, di biglietti ferroviari, di trottole di involucri di rotoli di carta igienica di distintivi collaborazionisti dell'occupazione, di rane imbalsamate la vetrina della collezione di sabbia era la meno appariscente ma pure la più misteriosa quella che sembrava aver più cose da dire pur attraverso l'opaco silenzio imprigionato nel vetro delle ampolle passando in rivista questo florilegio di sabbie l'occhio dapprima coglie soltanto i campioni che fanno i più spicco il color ruggine di un letto secco di fiume del Marocco il bianco e nero carbonifero delle isole Aran o una mescolanza cangiante di rosso bianco nero grigio che sull'etichetta porta un nome ancora più policromo isola dei pappagalli, Messico mi viene in mente una domanda un po' personale quello del giornalista per uno che vuole scrivere è un abito stretto, largo, giusto io penso che i tempi e gli spazi della scrittura di un romanzo e di un articolo giornale sono completamente diversi poi c'è anche un aspetto uno può scrivere anche un brutto romanzo ma quel romanzo lì comunque resta uno può scrivere invece un brutto articolo e viene dimenticato un bel articolo forse resta per un po' di tempo ma c'è anche una dimensione effimera come la vivi? cioè percepisci questo aspetto, lo senti oppure hai trovato una chiave di volta che invece elide questa ipotetica diminuzio della scrittura giornalistica rispetto a quella narrativa? io ho sempre pensato è un problema che mi pongo io è un problema di T8 magari la prendo un po' alta però proprio il fatto che duriamo così poco le nostre parole durano così poco a parte che rappresentano perfettamente tutto quasi tutto quello che riguarda la nostra vita quindi alla fine sono forse più rappresentative le parole di un giorno solo queste parole farfalle queste parole rosa che sfioriscono più in fretta rispetto alla presunzione di una parola non lo so qual è un fiore che dura tanto non so il tulipano forse no i fiori secchi durano tanto i fiori di plastica gli articoli fatti bene sono fiori di campo dureranno poco ma quando li raccogli hanno il profumo delle cose di giornata non so come dire forse è anche una scusa che ci racconta una bella metafora che ci raccontiamo perché non siamo capaci ad essere altro l'abitudine alle parole che devono rincorrere ai minuti la cronaca è un'abitudine che dà mestiere abilità di scrittura velocità ma che toglie qualche volta la possibilità di ripensare davvero la frase è vero che il giornalista scrive con tempi, modi e ritmi diversi rispetto al narratore e non è un caso che quasi nessuno tra di noi sia diventato veramente pochissimi pochissimi anche tra i grandi secondo me non ce ne sono o ce ne sono pochissimi buzzati Brera ma insomma ma anche su Brera so che bestemmio perché lavoro a Repubblica ma anche su Brera scrittore io avrei delle viserve cioè non lo colloco tra i grandi del novecento è stato il più grande giornalista sportivo credo della storia del giornalista sportivo italiano senza dubbio io però non lo metto tra i grandi narratori del novecento forse credo anche perché persino i totem le divinità come Gianni Brera alla fine prese dal risucchio dal vortice dalla fretta delle parole assumono un altro passo insomma se sei un velocista non sei un mezzofondista però va bene così ripeto io sono contento di raccogliere fiori di campo da ormai quasi trent'anni non me ne importa nulla che appassiscano domani vorrei che fossero belli questa sera benissimo grazie da tua testimonianza molto bella uno di quei giorni nostro padre si leva da tavola e dice con la sua voce ordinaria scendo fino al belbo a voltare quelle fascine che mi hanno preso la pioggia non so come ma io capì a volo che andava a finirsi nell'acqua e mi atterrì guardando in giro vedere che nessun altro aveva avuto la mia ispirazione nemmeno nostra madre fece il più piccolo gesto seguitò a pulire il paiolo e sì che conosceva il suo uomo come se fosse il primo dei suoi figli eppure non diedi l'allarme come se sapessi che lo avrei salvato solo se facessi tutto da me gli uscì dietro che lui pigliato il forcone cominciava a scendere dall'aia mi misi per il suo sentiero ma mi staccava a solo camminare così dovetti buttarmi a una mezza corsa mi sentì mi riconobbe dal peso del passo ma non si voltò e mi disse di tornarmene a casa con una voce rauca ma di scarso comando non gli ubbidì allora venti passi più sotto mi ripetè di tornarmene su ma stavolta con la voce che metteva con i miei fratelli più grandi quando si azzardavano a contraddirlo in qualcosa mi spaventò ma non mi fermai lui si lasciò raggiungere quando mi sentì al suo fianco con una mano mi fece girare come una trottola e poi mi sparò un calcio dietro che mi sbatte tre passi su mi rialzai e di nuovo dietro ma adesso ero più sicuro che ce l'avrei fatta di impedirglielo e mi venne da urlare verso casa ma ne eravamo già troppo lontani avessi visto un uomo lì intorno mi sarei lasciato andare a pregarlo voi per carità parlate a mio padre ditegli qualcosa ma non vedevo una testa d'uomo in tutta la conca eravamo quasi in piano dove si sentiva già chiara l'acqua di belbo correre tra le canne a questo punto lui si voltò si scelse il forcone dalla spalla e cominciò a mostrarmelo come si fa con le bestie feroci non posso dire che faccia avesse perché guardavo solo i denti del forcone che mi ballavano attredita dal petto e soprattutto perché non mi sentivo di alzargli gli occhi in faccia per la vergogna di vederlo come nudo ma arrivammo insieme alle nostre fascine il gorgo era subito lì dietro un fitto di felci e la sua acqua ferma sembrava la pelle di un serpente mio padre la sua testa era protesa i suoi occhi puntati al gorgo ed allora allargai il petto per urlare in quell'attimo lui ficcò il forcone nella prima fascina e le voltò tutte ma con una lentezza infinita come se sognasse e quando le ebbe voltate tutte tirò un sospiro tale che si allungò d'un palmo poi si girò stavolta lo guardai e gli vidi la faccia che aveva tutte le volte che rincasava da una festa con una sbronza fina tornammo su con lui che si sforzava di salire ad agio per non perdermi d'un passo e mi teneva sulla spalla la mano libera dal forcone ed ogni tanto mi grattava col pollice ma leggero come una formica tra i due nervi che abbiamo dietro il collo solo di libri da noi c'era abbondanza da una parete all'altra in corridoio e in cucina e in ingresso e sui davanzali delle finestre e dappertutto migliaia di volumi in ogni angolo della casa c'era come la sensazione che mentre gli uomini vanno e vengono nascono e muoiono i libri invece godono di eternità quando ero piccolo da grande volevo diventare un libro non uno scrittore un libro perché le persone le si può uccidere come formiche anche uno scrittore non è difficile ucciderlo mentre un libro quando anche lo si distrugga con metodo è probabile che un esemplare comunque si salvi e preservi la sua vita di scaffale una vita eterna muta su un ripiano dimenticato in qualche sperduta biblioteca a Reykjavik Valladolid Vancouver se capitò due o tre volte che non ci fosse abbastanza denaro per comprare il necessario per il sabato mamma guardò papà e papà capì che era arrivato il momento di scegliere la vittima sacrificale subito dopo andava all'armadio dei libri era un uomo di principi e sapeva che il pane veniva prima dei libri e che il bene del bambino veniva prima di tutto rammento la sua schiena curva mentre passava dalla porta con tre o quattro amati tomi sotto il braccio diretto con il cuore infranto al negozio del signor Mayer a vendere qualche prezioso volume come fosse stato un taglio della sua carne il più delle volte papà tornava dopo un'ora o due senza libri ma con dei sacchetti di carta marroni contenenti pane uova formaggio e a volte anche una scatoletta di carne capito anche però che papà tornasse dal sacrificio felice come una pasqua con un sorriso stampato in faccia senza gli amati libri ma anche senza spesa i primi li aveva sì venduti solo che l'iperlida aveva comprati degli altri perché sul posto aveva scoperto dei tesori così inattesi di quelli che ti capita di scoprire una volta sola nella vita e non aveva resistito mia madre lo perdonava e anch'io perché per quel che mi riguardava non mi interessava mangiare altro che le pannocchie e il gelato detestavo le frittate e la carne in scatola e a dire la verità a volte invidiavo un poco quei bambini affamati in India che nessuno mai costringeva a finire quel che c'era nel piatto la libridine è proprio quella cosa che chiunque ami frequentare le librerie si però stanno cercando di annullarci questa librerie con i libri che si leggono via web tu dici che non sarà eliminabile io dico che da Feltrinelli a Torino entrando nel primo scaffale prima c'erano le novità adesso ci sono i lettori come si chiamano gli ebook va bene lo stesso si passa oltre nessuno li tocca qualcuno li compra non voglio mica dire io uso un pc non ho l'ipad non ho il blackberry ho un computer per lavorare mi basta e mi avanza ma i libri di carta non possono sostituire questa libridine io l'ho presa ho avuto a undici anni avevo già come dire i primi turbamenti da libridine li ho presi appunto alla biblioteca di Settimo dove toccavo a Nusavo l'ho detto prima si 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 ti riconosci perché di nuovo si torna perché leggi una cosa e dici ma cavolo sono io quello lì allora io condivido questa cosa che dici però mi pongo un problema se questa cioè perché tu parli di una libridine presa a undici anni ormai questo termine lo usiamo stasera alla grande se oggi un undicenne non è contagiato da questa libridine che non la prende più non la prende più la creatività che abbiamo automaticamente mentre immaginiamo mondi leggendo è molto più creativa è affascinante è misteriosa è anche paurosa qualche volta perché i libri fanno anche stare male i grandi libri fanno soffrire molto è molto più di quanto c'è in un computer se loro lo sapessero è quasi cioè sono quasi universi per io mi sono mai drogato però credo che sia una roba così no? che tu vedi dei mondi ma come cosa c'è qua? dove sono? credo che se i mancati libridinosi sapessero che nella loro testa c'è molta più roba che in una playstation correrebbero pazzi di voglia in una libreria e comincerebbero a toccare a nusare a leccare i libri siamo talmente lontani dal mondo che fra poco cominceremo a non sapere più chi siamo neanche abbiamo pensato a dirci come ci chiamiamo e a che scopo a cosa sarebbero serviti i nomi nessun cane ne riconosce un altro o si fa riconoscere dal nome che gli hanno imposto e dall'odore che si identifica o si fa identificare noi qui siamo come un'altra razza di cani ci conosciamo dal modo di abbaiare di parlare il resto lineamenti colore degli occhi della pelle dei capelli non conta è come se non esistesse io vedo ancora ma fino a quando la luce si alterò leggermente non poteva essere di nuovo la notte che tornava forse era il cielo che si annuvolava ritardando il mattino dal letto del ladro venne un gemito se la ferita si è infettata pensò la moglie del medico non abbiamo niente per medicarlo nessun rimedio il minimo incidente in queste condizioni può trasformarsi in tragedia probabilmente è proprio quanto si aspettano che finiamo tutti uno dopo l'altro morta la bestia addio veleno la moglie del medico si alzò dal letto si chinò sul marito stava per svegliarlo ma non ebbe il coraggio di strapparlo al sonno e restituirlo alla coscienza di essere ancora cieco scalza un passo dopo l'altro andò fino al letto del ladro costui aveva gli occhi aperti fissi come si sente sussurrò la moglie del medico il ladro mosse il capo in direzione della voce e disse male la gamba mi fa molto male lei stava per dirgli mi lasci vedere ma tacco in tempo che imprudenza fu lui invece a comportarsi come se non si fosse ricordato che lì c'erano soltanto ciechi agì senza pensare come avrebbe fatto ancora qualche ora prima se un medico là fuori gli avesse detto me la faccia vedere e sollevò la coperta anche in quella penombra che avesse potuto utilizzare un minimo gli occhi avrebbe potuto vedere il materasso inzuppato di sangue il foro nero della ferita dai bordi rigonfi la fasciatura si era slegata la moglie del medico abbassò con cura la coperta poi con un gesto lieve e rapido gli sfiorò con la mano la fronte la pelle secca scottava la luce si alterò di nuovo le nuvole si erano allontanate la moglie del medico tornò alla propria branda ma non si coricò guardava il marito che mormorava sognando le altre sagome sotto i copriletti grigi le pareti sporche i letti vuoti in attesa e serenamente desiderò di essere cieca anche lei di attraversare la pellicola invisibile delle cose e passare al loro interno verso la propria affolgorante e irrimediabile cecità cercai un alleato migliore avevo la fiducia più completa in Giolla il giovane medico d'Alessandria che armogene si era scelto come sostituto durante la sua assenza l'estate scorsa conversavamo insieme mi piaceva abbozzare con lui qualche ipotesi sulla natura e l'origine delle cose amavo quello spirito ardito e sognante la fiamma cupa di quegli occhi cerchiati sapevo che nel palazzo d'Alessandria aveva ritrovato la formula dei veleni straordinariamente sottili scoperti un giorno dal chimico di Cleopatra l'esame dei candidati alla cattedra di medicina che ho istituita all'Odeon mi servì di scusa per allontanare Ermogene per poche ore offrendomi così l'occasione di un colloquio segreto con Giolla gli bastò un cenno per comprendermi mi compiangeva non poteva che darmi ragione ma il suo giuramento ipocratico gli interdiceva di somministrare a un malato una droga nociva sotto qualsiasi pretesto rifiutò irrigidendosi nel suo onore di medico insistetti divenni perentorio impiegai tutti i mezzi per tentare di impietosirlo o corromperlo sarà lui l'ultimo uomo che ho supplicato vinto mi promise infine di andare a prendere la dose del veleno l'attesi in vano fino a sera sul tardi nella notte seppi con orrore che l'avevano trovato morto nel laboratorio una fiala di vetro tra le mani quel cuore schivo da compromessi aveva trovato questo mezzo per restare fedele al suo giuramento senza rifiutarmi nulla un giorno di ottobre sul battello Ischia Capri un uomo appoggiato al parapetto di prua contro il vento e il sole guardava fisso e senza pensiero il blu del mare e le spume bianche disse l'estate è finita la gola si chiuse e non poté più parlare allora pensò chissà dove sarà e rivide accanto a sé su quello stesso parapetto di prua la moglie che non vedeva più da molti anni e come quell'estate la guardò aveva lunghi capelli castani raccolti a coda di cavallo ma battuti dal vento un volto ovale timido e selvatico da suora orientale cortissimi shorts bianchi una camicetta di madras scolorita scarpe da tennis impolverate di rosso sui piedi nudi pelle già scura denti bianchi e forti un po' convessi spesso teneva la bocca schiusa mangiarono sulla terrazza di legno sconnesso da Luigi ma con tovaglia bianca e bicchieri a calice di un vetro verde e leggerissimo che si appannò subito al vino dischi agghiacciato sentirono il sapore di zolfo di quel vino mischiarsi in bocca al sale amaro del mare e le labbra diventare più dure e come anestetizzate dal bordo gelido e sottile del bicchiere senza peso mangiarono cozze al pepe lei succhiava le cozze con la piccola bocca indurita dal vino freddo e a quel punto lui la baciò proprio su quelle labbra per sentire se era vero era vero le labbra erano indurite dal vino freddo e fuori intorno sopra il labbro era rimasto un po' di sale mangiarono una ragosta enorme lei masticava rapidamente con forza a bocca chiusa ma sapeva conosceva le cose che mangiava e il momento in cui le mangiava l'uomo che in quegli anni intuiva soltanto se lo chiese no lei non sapeva era troppo giovane per sapere aveva molta fame e basta e subito dopo mangia una mozzarella in carrozza dormirono abbracciati su un materassino su uno scoglio coperti da un asciugamano di ciniglia blu con un grande delfino un bordo giallo e una piccola iniziale anche lui dormì meno con la guancia appoggiata a quella di lei già un po' madida per qualche breve istante si svegliava sentiva i capelli umidi di lei sulla spalla una volta sentì che lei nel sonno gli dava due o tre bacini molto piccoli sulla guancia restarono fino al tramonto si tuffarono ancora nell'acqua senza sole e si asciugarono poi salirono il sentiero tra i pini a passi veloci sudando moltissimo la notte dormirono tra le bianche lenzuola che sapevano odore di aria mattutina tenendosi per mano come dentro il mare la finestra era spalancata e l'uomo guardò per molto tempo la luna era luglio poi venne agosto e così passò l'estate agli amici cari amici qui dico amici nel senso vasto della parola moglie sorella sodali parenti compagne e compagni di scuola persone viste una volta sola o praticate per tutta la vita purché fra noi per almeno un momento sia stato teso un segmento un accordo ben definita dico per voi compagni di un cammino folto non privo di fatica e per voi pure che avete perduto l'anima l'animo la voglia di vita o nessuno o qualcuno o forse un solo o tu che mi leggi ricorda il tempo prima che si indurisse la cera quando ognuno era come un sigillo di noi ciascuno reca l'impronta dell'amico incontrato per via in ognuno la traccia di ognuno per il bene o di il male in saggezza o in follia ognuno stampato da ognuno ora che il tempo urge da presso che le imprese sono finite a voi tutti l'augurio sommesso che l'autunno sia lungo e mite grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti